Coppie. I veri supereroi oggi sono loro. Chiaro, abbiamo fatto l'amore e per forza mi devi scusare. Io ho pensato che vorrei passare tutta la mia vita con te. Perché dobbiamo sempre parlare del futuro? Per me il futuro è adesso, Anna. Quante possibilità ci sono che ci rincontriamo? È una percentuale così bassa che statisticamente viene definita irrilevante. Grazie.